Musica Bentrovati telespettatori di TV Sela Appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di giovedì 26 gennaio Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare il centro nord italiano pressoché sgombro da nubi mentre sulle regioni meridionali abbiamo ancora un moderato flusso instabile Nel dettaglio sulla nostra regione al mattino avremo condizioni di tempo stabile ma accompagnato dalla presenza di molte nubi soprattutto lungo il versante orientale dove i cieli risulteranno coperti o nuvolosi mentre nelle zone interne avremo cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi Le temperature inoltre risulteranno in generale diminuzioni su tutto il territorio Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche non vedranno grossi variazioni rispetto alla mattinata con i cieli che continueranno a risultare nuvolosi o coperti lungo la fascia costiera mentre risulteranno prevalentemente poco nuvolosi nelle zone interne La ventilazione inoltre proverrà dai quadranti settentrionali su tutta la regione Nella serata le condizioni meteorologiche vedranno un generale miglioramento con i cieli che risulteranno generalmente poco nuvolosi o nuvolosi Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento Nella serata le condizioni meteorologiche vedranno un po' di cieli che risulteranno in generale miglioramento Grazie a tutti! Grazie a tutti!